C'è un proverbio napoletano che dice pazzo chi gioca e pazzo chi non gioca e sta a indicare proprio questa abinvalenza che esiste proprio nel gioco in generale. Chi non ha imparato a contare giocando a scopa per esempio e quindi i genitori che ti insegnano 3 più 1, 4 eccetera e questo è l'aspetto positivo del gioco oppure come il gioco come momento di socializzazione. Oggi con la problematica del gioco patologico ma più che altro del tempo liberato, siamo passati dal tempo libero al tempo liberato dove le persone hanno un vuoto esistenziale, non sanno che cosa fare e la cosa più semplice in questo momento, una delle cose più semplici è il gioco che può occupare molto spazio nella quotidianità di tutti noi. E opera sul territorio del comune di Fisciano nel settore socio-sanitario assistenziale. Siamo qui in rappresentanza dell'associazione per testimoniare la vicinanza a questa presentazione del libro in termini effettivi perché noi dal 2017 al 2018 abbiamo svolto in sinergia con il centro del servizio del volontariato di Salerno un progetto legato alla ludopatia. Quindi siamo qui per portare la nostra testimonianza di come effettivamente si è svolto il tutto. Il progetto che abbiamo svolto aveva tre fasi. La prima quella di conoscenza sul territorio, la seconda quella dello sviluppo, quindi con l'apertura di uno sportello sociale per la ludopatia nel quale sono stati coinvolti dei professionisti, in particolare due psicologhe e un esperto legale che sono stati messi a disposizione del territorio della cittadinanza appunto per cercare di aiutare queste persone che si legano purtroppo a questa malattia così come è stata definita e quindi con cadenza settimanale lo sportello ha funzionato per sei mesi presso la sede dell'associazione La Solidarietà di Fisciano. Il tutto è terminato a maggio del 2018 ed ha avuto degli ottimi risultati. Speriamo di ripetere questa iniziativa e di portarla avanti con sempre maggiori risultati. L'unico istituto che in Campania si occupa esclusivamente di agricoltura. Qualcuno potrebbe chiedersi come mai sono qua oggi, visto che non si parla di agricoltura ma si parla di gioco d'azzardo. Sono qua oggi a testimoniare il fatto che in questi anni nella nostra società i ragazzi non possono soltanto pensare a distruirsi a acquisire delle competenze relativamente alla loro materia, devono essere pronti a interagire con il mondo e il mondo è fatto anche di connessione, 4 miliardi di persone sulla terra sono connesse via internet ed è fatto anche di vizi, è fatto di abitudini spesso insane. Il gioco è sicuramente uno di questi. I ragazzi imparano da giovanissimi a giocare online attraverso i loro computer, i loro cellulari e spesso il gioco diventa un modo per evadere da una realtà con cui invece è importante che loro interagiscono.